E' stato licenziato in quanto gli viene addebitata una negligenza grave nell'esecuzione della prestazione e secondo Securpol Group questa condotta negligente del dipendente avrebbe comunque concorso alla causazione del danno finale per cui formalmente gli è stato richiesto unitamente alla combinatoria di licenziamento risarcimento del danno. A Enne, l'11 luglio scorso, il giorno della sparizione dell'oro dal portavalori, si trovava assieme ad Antonio Di Stazio, l'ex dipendente della Securpol sul quale pesa adesso l'accusa di furto pluriaggravato e che al momento è detenuto nel carcere a retino di San Benedetto. Dopo l'arresto di Di Stazio per l'ex collega è scattata prima la sospensione e poi il licenziamento. Inoltre la Securpol ha richiesto un maxi risarcimento all'ormai ex dipendente. Formalmente l'importo indicato come notorio era stato additato in 500.000 euro. 500.000 euro costituiscono secondo Securpol Group la franchigia contrattuale della propria copertura assicurativa. È chiaro che ribadisco dovrà essere la magistratura, il magistrato del lavoro a determinare in quale misura l'eventuale negligenza di A Enne abbia o meno concorso alla causazione del danno e quindi alla sottrazione dell'oro. Accusa dalla quale l'uomo si è sin da subito difeso. Con giustificazioni precise e circostanziate che ha sempre ribadito e sostenuto. Intanto A Enne è stato sentito proprio in questi giorni a sommare informazioni nel procedimento a carico dell'ex collega accusato di furto pluriaggravato. È stato sentito dalla dottoressa Masiello nel procedimento a carico del collega di Stazio e ha reso ovviamente sit non assistite perché siamo in periodo istruttorio. Per quanto riguarda la posizione lavorativa abbiamo impugnato proprio oggi stragiudizialmente e ci riserviamo l'attività giudiziale. Grazie. Grazie. Grazie.